Eccomi, buongiorno a tutti, vorrei darvi un consiglio per scommettere, per vincere, perché sono uno scommettitore professionista da molti anni, un primo consiglio per vincere alle scommesse sportive e quindi per vincere è come non vincere, cioè capire come non vincere le scommesse sportive, questo è un primo consiglio, nel senso io capisco come non vincere, com'è che non si vince, non si vince puntando una partita oppure su un evento a caso, come fosse il lotto, l'enalotto, come fosse il gratta e vinci, infatti quello è un modo per non vincere, giocare queste cose qua, mentre con le scommesse sportive c'è un modo per farlo per vincere, quindi il primo modo, il primo consiglio comunque è come sapere come non vincere, questo è importante, a presto per i prossimi consigli, io G&G sono io, dai, vai!